Convegno medico al centro di fisioterapia Pegaso di Sciacca del dottor Gaspare Basile, questa mattina esperti a confronto sull'artrosi all'anca. È una patologia che risale a millenni fa, perché nelle tombe degli antichi furono pure scoperte queste degenerazioni. Trattasi di una patologia articolare di carattere degenerativo e che porta lentamente e progressivamente a una invalidità sempre più inficiante in quella che è la vita di relazione e quindi le attività quotidiane, anche minime, come l'igiene intima o salire e scendere da un'auto diventano difficoltose. Nel corso del tempo sono cambiati i modi di curare questo problema. Adesso a cosa si è arrivato e come si contrasta? Sì, nel 1976 il 49esimo congresso SIOT che si tenne a Venezia rappresentò la svolta in questo campo, perché prima si facevano solo osteotomie correttive, cioè si interveniva sullo scheletro interrompendo la continuità scheletrica e cambiando gli assi di carico. Da quel momento in poi entrarono e si sono evolute quelle che sono le protesi d'anca. Prima protesi semplici, oggi sono diventate artro protesi totale, cioè si tende a cambiare sia la testa del femore che la cavità acetabolare perché c'è pure un danno articolare all'interno. Principalmente noi ci siamo focalizzati sul fatto, su quelle che sono le infiltrazioni ecoguidate di Anca. Oggigiorno stanno prendendo un largo spazio perché siamo in grado in tempo reale di vedere l'introduzione del mezzo di contrasto che giunge direttamente in cavità articolare, quindi siamo sicuri al 100% che il farmaco viene messo in articolazione e quindi dell'ottima efficacia. Che incidenza c'è sulla popolazione riguardo questa patologia? Diciamo che l'incidenza è abbastanza alta, specialmente che la coxartosi è una malattia cronico-degenerativa che interessa l'età adulta, anche se oggigiorno, mentre prima era più frequente riscontrarla in soggetti oltre 60 anni, anche oggi è possibile riscontrarla in pazienti che vanno da 40 a 50 anni. Quali sono le cause? Principalmente quelle nelle cause del paziente giovane sono principalmente di sport, quindi sollecitazione dell'articolazione ad abnorme esercizio. Ed il consiglio a non trascurare alcun sintomo per evitare che la patologia degeneri arriva dal dottor Giuseppe Tulumello, primario del reparto di ortopedia e traumatologia dell'ospedale di Sciacca. Non bisogna sottovalutare assolutamente la sintomatologia iniziale, certo bisogna spesso cambiare lo stile di vita, bisogna fare molta attività sportiva, quindi bisogna iniziare a prendersi cura delle nostre articolazioni sin dall'inizio, sin dalla giovane età, però spesso noi tralasciamo anche il sintomo più... ci può sembrare più banale, ecco, quindi ci rivolgiamo al medico quando già è troppo tardi. Poi c'è soltanto una soluzione, la sostituzione protesica.